È Villa Erba a Cernobbio ad ospitare la seconda tappa di Looking For, il progetto ideato e voluto da Fondazione Cariplo in occasione dei 30 anni di attività. Protagonisti delle quattro tappe organizzate per il trentennale, i temi d'azione chiave della Fondazione, ambiente, cultura, ricerca e servizi alla persona. Dal 1991 la Fondazione ha realizzato complessivamente 35.600 progetti donati al territorio oltre 3,6 miliardi di euro. In provincia di Como ha sostenuto 1.806 progetti per quasi 176 milioni di euro. Il percorso sui 30 anni è un percorso che si muove nel territorio. Oggi siamo qui, siamo stati a Novara la settimana scorsa, saremo a Brescia, saremo a Pavia per discutere di ricerca. Poi ci sarà un momento finale a Milano ma tutto il nostro territorio è coinvolto anche in questo percorso sui 30 anni. Le fondazioni comunità sono un protagonista fondamentale del lavoro che Fondazione Cariplo sta facendo nei territori e nei territori lì dove ci sono le persone succedono le cose. Ambiente protagonista durante la tappa lariana con l'evento dal titolo dalla pianura alle Alpi, ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici. Con 2.298 progetti sostenuti pari a 214 milioni di euro erogati, Fondazione Cariplo si è impegnata per promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente. In questi anni gli interventi che abbiamo svolto a livello lombardo nei quattro settori di nostra competenza hanno consentito di sostenere molto le comunità locali. Su questo tema in particolare assegnato alla giornata odierna dalla pianura alla montagna e quindi come incide il cambiamento climatico su queste tematiche, ebbene il lago di Covo non è estraneo a delle conseguenze dirette. Quando c'è un periodo di grande siccità o di scarsità di neve il lago si abbassa, le sponde la quali sono a rischio, questo determina rischi per gli ecosistemi del lago, della montagna, ma anche un rischio reale di cedimento delle coste, la quali. Grazie.